Da sempre molti psic, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e compagnia, hanno dato una spiegazione molto precisa al fatto che il paziente magari droppa, oppure la terapia non va avanti, o non si presenta in terapia, è resistente. A me questa spiegazione non mi ha mai convinto, cioè possono esserci dei casi, assolutamente ci sono, di questa resistenza, che poi dovremmo definire meglio di che cosa si tratta, ma dare sempre solo questa spiegazione, soprattutto vista con una cosa del tipo, così, non mi piace, non sono convinto. Finché qualche anno fa mi sono imbattuto nell'articolo di Steve Schaeser, The Death of Resistance, la morte della resistenza, vecchio come il cucco, ovviamente mai tradotto in italiano però. È un articolo che per me è stato molto illuminante, mi è piaciuto talmente tanto, molto significativo peraltro per le terapie brevi, che volevo condividerlo un pochino con voi. Poi ovviamente se vuoi mettere le tue riflessioni, i tuoi commenti, le tue opinioni su quello che sto per dire, su questo articolo qui sotto, fallo che mi fa molto piacere, almeno sciariamo un pochino di idee. Se anche mi vuoi chiedere l'articolo in italiano, io l'ho tradotto per conto mio, te ne mando una copia, mi mando un'email, te ne invio volentieri. Quindi tre spunti interessanti sull'articolo, che è un articolo che appunto ovviamente affronta il tema della resistenza, è una prospettiva molto particolare, peraltro è un articolo neanche troppo semplice, cerco di riassumere appunto tre spunti che secondo me possono essere interessanti nel nostro lavoro con le persone. Numero uno, The Shazer parte da una prospettiva sistemica, quindi la resistenza viene vista come un elemento interno al sistema, quindi come qualcosa che va compreso all'interno del sistema terapeuta-paziente, ed è una cosa che diventa fondamentale per capire il sistema stesso e per avviare il processo di cambiamento. Numero due, se la resistenza come meccanismo omeostatico che mantiene il sistema della famiglia o dell'individuo nel suo status quo è utile come costrutto in questo senso, The Shazer dice nel momento in cui tu includi il terapeuta all'interno di quel sistema abbiamo un sistema sovraordinato, composto non più solo dalla famiglia ma dalla famiglia e il terapeuta, quindi anche qui la resistenza va vista in un modo diverso, non è più un meccanismo semplicemente omeostatico, è un meccanismo, dice lui, morfogenetico. Numero tre, in questo nuovo sistema la resistenza diventa un'altra cosa, diventa una forma di cooperazione, quindi The Shazer dice è un modo in cui la persona ti sta comunicando come può cooperare con te, come può fare terapia con te, e questo ti dà proprio un'altra prospettiva su come avanzare nel processo terapeutico con quella persona. Si tratta in realtà di concetti non nuovissimi, soprattutto all'epoca, Erickson, Milton Erickson già ne parlava, Habib Danvalo già ne parlava in termini simili, rimane comunque un concetto a mio parere molto potente, perché ti permette di riuscire a concepire il modo in cui la persona ti sta chiedendo di collaborare in terapia, di poter andare avanti verso il cambiamento. Per me è stato illuminante perché in questo modo nel momento in cui mi trovo di fronte a quella che appunto viene generalmente chiamata una resistenza, trovo il modo di facilitare il percorso di cambiamento adattandomi a qualcosa di diverso per cui la persona è più utile per lei. Mi piacerebbe sapere molto che cosa ne pensi, quindi pubblica qua sotto le tue opinioni, le tue critiche, le tue riflessioni, le tue idee. Non essere resistente.